Ah, finalmente un giorno di riposo e posso andare in questo bellissimo posto Ho sentito parlare di una meravigliosa cascata e di una scultura bellissima Guardate che bella quella cascata! E c'è anche la scultura di cui ho sentito parlare Ehm... Fere, cosa ci fai? Sto interpretando la scultura, mi sembra ovvio Dice due guffi sono caduti, non una Ferenichi Vabbè, uguale, uguale Io sto interpretando e sto omaggiando i due poveri guffi caduti Io me ne vado da questa parte, vado a vedermi la cascata La scultura ormai l'hai rovinata Arrivederci, grazie E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Stefano, che si è il Giamma GTA V E siamo qui con un nuovissimo si può fare, pronti a provare tante cose fantastiche Esattamente, per ognuno ho improvvisato subito al volo Ho visto la cascata e mi sono illuminato Carendo dalla cascata, moriamo? Non lo so, proviamo Eh, sì, vai prima tu però, Fere Vado, vado Secondo me no, secondo me no Com'è data? Oddio, ho perso metà vita, ma sono viva Hai perso metà vita? Metà vita Io provo a non correre e a scivolare basta Ok E sono morto Abbiamo un aereo Abbiamo un dirigibile Lo vedo, lo vedo Che cosa dobbiamo fare secondo te, Fere? Non ne ho la più pallida idea Però, prova a inventare un si può fare vedendo un aereo indirigibile Vediamo se ti esce lo stesso che hanno proposto Allora, se l'aereo distrugge il dirigibile? Ok E se l'aereo esplode distruggendo il dirigibile? Ok Quindi è la cosa a doppio taglio Mi piace, mi piace Ok, allora A doppio senso Tu vai nel dirigibile Che sicuramente esplode Ok Ok Prendi quota Ci sono Arrivo Oh mamma mia Ti sto per prendere in pieno Che cosa brutta Fere Che cosa brutta Eccomi Esplosi entrambi Esplosi entrambi Ma vero? Io non l'avrei detto, eh L'aereo è tutto bello che è esploso Direi che non hai più dubbi se è esploso o meno Assolutamente no E l'indirigibile è al contrario tutto rotto così Che è stranissimo da vedere Sì, 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 sì Abbiamo appurato che sì Entrambi esplodono Questa è la conferma ufficiale Esattamente Prossimo si può fare Dai dimmi Mi ha divertito questo format Ok Hai un elicottero Cosa dobbiamo fare? Allora, questo non lo azzecchi mai nella vita Eeeh Solo l'elicottero, nient'altro? Già Dobbiamo Sì Volare da qualche parte Non lo so, non lo so È troppo difficile così Allora, è presente che tra gli animali c'è la balena? Sì E se uno di noi sta sopra l'elicottero E si trasforma in balena E schiaccia l'elicottero Cosa succede? Sì, è geniale No, è terribile È geniale Allora, ma la balena muore subito Perché ovviamente non può stare nella terra Infatti dobbiamo gestirla molto bene Sarà molto importante gestirla nel modo giusto Allora, lo faccio io Fare Eccomi No, è scomparsa È scomparsa poco prima Io ho visto che ti ho colpito, eh No, allora, per come l'ho vista io Cioè, poi non lo so Ogni tanto capita che vediamo cose diverse Praticamente l'aereo era qua La balena così Ed è scomparsa Proprio un tanto così dal colpirmi Io sono riuscito praticamente a coricarmi leggermente su di te E poi è scomparsa In ogni caso non eri esploso E soprattutto purtroppo la balena ha questa cosa Che dato che muore istantaneamente perché non è nell'acqua Scompare subito Quindi non fa provarlo troppo bene Ma secondo me Non saresti esplosa Perché ti ho visto toccare L'aereo ha semplicemente fatto così Ah, ok Come se si curvasse un po' Ma senza esplodere Ci avete proposto una cosa fantastica Ovvero di attirare la polizia Dopodiché Nasconderci dentro lo yacht Ok E vedere se la polizia viene a prenderci anche lì Ok Ok, sì, ha senso Spariamo un po' Buongiorno Oh, che bella Questa è la mia parte preferita Sta arrivando anche la polizia Io ho un lanciagranato e faccio esplodere tutto Allora, coprimi Io inizio ad andare allo yacht Ci vediamo dopo Ok, vai, vai Tu ammazza tutti Tranquillo Questa è la mia parte preferita Sono bravissima Vai, 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 vai C'è pure un elicottero sopra la testa E mi sta sparando Dannazione Vada Zigo Zago Vada Zigo Zago Avrei dovuto preparare una barca Non so perché non l'ho fatto Io non sapevo cosa dovessimo fare Te l'avrei detto di preparare una barca L'ho pensata male L'ho pensata male Comunque arrivo pure io Arrivo pure io Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Oh no, Dio, Dio, Dio Sto scrivendo proiettili Ho detto rubo questa barca Mi giro Erano le barche della polizia Comunque arrivano nello yacht Sì C'erano le barche Arrivano nello yacht Sì, ma bisogna vedere Se scendono e vanno dentro Allo yacht Non lo so Vedremo, vedremo È quello il dubbio Tre stelle di polizia In ogni caso Che secondo me è il numero perfetto Per testare queste cose Sì, sì, assolutamente E devo dire che mi stanno mancando malamente Io purtroppo da qui non posso sparare Mi stanno affiancando Le vedi, le vedi, le vedi Veloce, Steph Corri, corri, corri Io cerco di rubargliele Corri, 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 corri Corri, 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 corri Corri, però Sei troppo lento, Steph Allora, continuano a puntarti E io li vedo che stanno continuando a puntarti Ok Salgo anch'io, salgo anch'io Però per ora non stanno venendo? No, per ora no Per ora no Ok, ok, ok Ok, mi sono nascosto Vediamo, vediamo Stiamo qua Stiamo qua Allora Per adesso, vediamo così Ho un elicottero sopra la testa Esatto E le barche della polizia Che si sono fermate a fianco a te Praticamente sono fermi Che fissano lo yacht Li vedo Sono in tre per ogni barca Ok Ok E fissano lo yacht Fermi i mobili Non fanno altro Allora, aspetta che li sparo pure della serie Se non mi hanno visto adesso mi notano Consolini Ehi, sono qua Così non avete neanche dubbi Risto qua E adesso Cos'è esploso, Fere? Volevo fargli notare che eravamo qua Invece sono affondati Tutti? Eh sì, scusami Ho usato un lancio a granate Forse è stato un po' eccessivo Che dici? Forse Questo è un bug incredibile Allora Loro, quando io ero a nuoto Hanno chiamato le barche Sono venuti a prendermi Ok Adesso che io sono nello yacht Sono soltanto con le macchine lì nella spiaggia E non stanno venendo Ok Ok Ma sono sicuro che se io adesso mi butto in acqua Qua fianco allo yacht Torneranno con le barca a prendermi Prova Vuoi vedere? Prova, vai Allora, aspetta che prima di tutto devo sparare una macchina da pulizia Io sto provando a spararli Che altrimenti direttamente scompaiono Ok Così Io adesso mi butto in acqua Guardate Non c'era nessuna barca Guardate adesso Vediamo con esc Arrivate le barche Fai vedere Fai vedere Fai vedere Sono arrivate Sono arrivate No, non ci credo Nello stesso secondo in cui sono di nuovo tornati in acqua Eccole infatti Eccole 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 lì Io vi sparo di nuovo Che bug Ok, è strano Quindi praticamente Anche se loro possono raggiungere lo yacht con delle barche Quindi con dei veicoli Poi non salgono Non salgono Non salgono E infatti direttamente se tu stai nello yacht Loro direttamente smettono di vederti Ti ignorano Smettono di cercarti E ti ignorano Quindi lo yacht Bel tentativo È un altro di quei posti dove puoi seminare la pulizia Perché ne avevamo già scoperto tanti In altri si può fare E ne abbiamo trovato un altro Un'altra cosa che ce l'ha chiesto i consolini Fede È il dirigibile Può galleggiare? Secondo me no Nienche secondo me Perché nel momento in cui tocchiamo l'acqua Noi affoghiamo E quindi non c'è più nessuno Dici Non lo so, non lo so Però magari può rimanere a galla anche senza di noi Non lo so Vediamo, vediamo Ma proprio a notte ci doveva essere Vabbè dai Ce la facciamo andare bene Vado? Vai Piano, 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 piano Perché voglio scendere proprio piano Dai, più scenografico di notte Un po' ci sta Sì, è vero Però fa più paura Allora, ok Siamo vicini a toccare l'acqua, signori Ci apprestiamo a scendere Vado proprio lento lento Perché non voglio morte di impatto Non voglio nulla Voglio proprio capire se può galleggiare Ok Ci siamo, ci siamo, ci siamo La stiamo sfiorando Ok Ferre Allora, io penso di star per affogare Tu che dici? Io non ho paura No, io sono senza parole Galleggia Galleggia Ferre Il dirigibile galleggia Galleggia Io voglio andare in prima persona No, io sto morendo Sto morendo affogata Sono morto anche io Fammi uscire fuori prima No, sono morta Io sono, allora È normale Perché se pensate la cabina È proprio l'unica cosa che stava sott'acqua È quello che ho detto anch'io Però il dirigibile in sé Galleggia 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 davvero È assurda sta cosa Cioè Guarda, io ti posso confermare Sono ancora qui fuori dall'acqua E sta galleggiando Vi spiego Allora A livello fisico mi sembra abbastanza normale Perché per come è fatto un dirigibile Mi sembra normale che galleggi Però i motori stanno insieme alla cabina Quindi teoricamente i motori andando ad impattare sull'acqua Pensavo che esplodessero O che comunque si rompessero E invece no E invece può galleggiare E funziona Sta cosa è davvero assurda Pere Secondo te Perché sei un cinghiale Cosa c'entra un cinghiale Con un aereo Lo so Vai Sei un cinghiale Può pilotare un aereo Brava Grazie L'hai indovinato subito Questa però l'avevo letta nei commenti Dammi il cinque Ti dico che ho Ti ho tolto il cappello Allora Ti prendo a calci Pere Vedere ciò che sta succedendo Però io sono un cinghiale Sono salito sull'aereo Ok Ok Però non riesco ad accenderlo Wow Già Wow Aspetta Prova ad accendere il motore Quindi vai un po' di avanti e indietro Senza alzarti in volo Ok Io torno e secondo me A quel punto se salgo posso guidarlo Secondo me Adesso che tu hai acceso il motore Io posso andare Vai No si è spento Si è spento totalmente Spegne proprio Allora Vietato i cinghiali Possono stare nella cabina di comando E ammirare tutto quanto Ma non possono guidare L'aereo ha una sua coscienza Dice no Tutto tranne i cinghiali Però dobbiamo provare un'ultima cosa Con gli animali Che ti divertirà molto Ok Quindi preparati Perché questa è fantastica Non te la dico La dovrai indovinare Ma te me le stai facendo indovinare tutte Non la indovini questa Andiamo 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 fare Dobbiamo fare le giostre Lo so lo so Lo so Vai Se possiamo prendere le montagne russe Sì ma non è tutto Davvero Cosa c'è Eh non te lo dico Non te lo dico I consiglini lo stanno leggendo in questo momento Ma tu non lo saprai Fin quando non proveremo Ok Puoi salirle queste scale Fere? Sì Perfetto Sì sì No mi stavo un po' incastrando Perché ogni tanto l'animale prende E va il retromaggio Allora Non riesco a salire per ora Mi sa che non si può No Fere sono proprio fuori uso Le montagne russe Non ci possiamo salire neanche così Ah non funzionano qui A quanto pare no A quanto pare no E vabbè Che peccato Mi è andata male Mi è andata male Che peccato Era fantastico Perché dicevano Praticamente Sì Entrarci l'animale Quando c'era una curva veloce Cliccare uno Per coricarci Ok Ok E vedere se ti faceva volare via Dalla montagna russa Usare la montagna russa Come lanciatore di animali Esatto Era bellissimo Era bellissimo E un peccato Che non possiamo provarla Però era davvero geniale Quindi grazie a chiunque L'abbia proposto Perché è una cosa fantastica E geniale E l'ho apprezzata un sacco Fere Dimmi Ti puoi un attimino Provare a nascondere Qualunque posto tu vuoi Nasconditi E vediamo se ti trovo Ok Ehm Vai Proprio un nascondiglio rapido E' bellino Sì No Ok Vado Vado a fare uno bellino No no Vado Ok Ok Allora Vediamo un pochettino Dove potrebbe essere Ferenichi Cosa devi fare I consolini stanno capendo Tu no Cosa devi fare Dove potrebbe essere Ferenichi Non lo so Non lo so Forse è qui dietro E quindi Guarda il mio schermo Hai capito Cosa stai combinando La visione termica Come è possibile Che la visione termica Cioè aspetta 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 Io mi son girato Me ne sto andando Dall'altra parte Ok Ok E tu mi vedi Allora posso esattamente Sapere dove sei E chi sei Perché ti distingo Anche dagli altri NPC Quindi guarda No vabbè In questo momento So esattamente Andando da te Che sei inginocchiata Dietro questo muro Ma questo è un cheat Incredibile per il nascondino Ciao Feren Mamma mia Che bello Ma che figata Dove te lo sei tolto fuori È una delle tonte cose Che ci permette di fare Questo server Ah ecco Fighissimo Lo volevo provare Ero curioso Quindi ho detto Dai proviamola Ma bello E funziona pure bene E funziona pure bene Comunque direi che ci possiamo fermare così Per questo Gita 5 Si può fare come sempre Continuate a proporcene Tanti 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 Nei commenti Fateci sapere con i likes E con i sondaggi Se vi è piaciuto anche questo Si può fare pieno di cose Grazie mille a tutti quelli Che ci hanno proposto Delle cose fantastiche Come quelle che ci state Continuando a proporre E ci fermiamo così Perché se non ci esiste Ciao 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 ciao